Benvenuto su Scelta del prodotto. In questo video daremo un'occhiata a miglior macchina da caffè a cialde. Ho stilato questa lista basandomi sulla mia ricerca e opinione personale e ho cercato di catalogarli in base al loro prezzo, qualità, durata e altro. Se vuoi conoscere il prezzo e saperne di più su questi prodotti, puoi visitare i link nella descrizione qui sotto. Bando alle ciance, cominciamo con la lista. Cominciando la nostra lista con il numero 5, abbiamo De Longhi Icona. La De Longhi Icona è una macchina da caffè dal design elegante che farà risaltare la vostra cucina. Con una pressione di 15 bar, questa macchina produce uno dei migliori espressi che si possano trovare nella sua fascia di prezzo. È dotata di un sistema manuale per il cappuccino per coloro che desiderano personalizzare la bevanda a proprio piacimento. La funzione di spegnimento automatico è ottima per la sicurezza e l'efficienza energetica, mentre il serbatoio dell'acqua rimovibile ne facilita il riempimento. Nel complesso, la De Longhi Icona è un'ottima scelta per coloro che desiderano una macchina per caffè espresso che sia tanto bella quanto performante. La De Longhi Icona è un'ottima scelta per chi cerca una macchina per caffè espresso dall'aspetto gradevole e dalle buone prestazioni. Numero 4. Gaggia Macchina da caffè compatta ed ergonomica con un classico pannarello in acciaio inox, la Gran Gaggia Deluxe è perfetta per l'uso domestico. La macchina manuale prepara una o due tazze di caffè macinato alla volta e dispone di un serbatoio dell'acqua e di un vassoio di raccolta rimovibili per una facile pulizia. Grazie all'interfaccia semplice, ai pulsanti e alla funzione di spegnimento automatico, è ideale anche per i principianti che vogliono imparare a preparare a casa propria deliziose bevande a base di caffè espresso come il cappuccino o il latte macchiato. Gran Gaggia Deluxe viene fornita con due cestelli filtranti, un tamper e una garanzia limitata di un anno. Il tipo di caffè che vi piace bere, se preferite le bevande a base di caffè espresso. Terzo posto c'è De Longhi. De Longhi Dedica è una macchina da caffè espresso manuale per caffè e cappuccino. Dedica è interamente realizzata in metallo lucido con finiture in acciaio inox, di dimensioni compatte. Grazie al cappuccinatore regolabile è possibile montare facilmente il latte per un cappuccino o aggiungere vapore. Per un ottimo latte, dopo 9 minuti di inutilizzo si spegne automaticamente risparmiando denaro. Grazie alla funzione Flow Stop per personalizzare la durata del caffè. Pannello di controllo facile e intuitivo dotato di tre funzioni a prepara espresso, cappuccino e latte. Dotata di portafiltro professionale per caffè macinato, filtri inclusi una tazza e due tazze. La EC685. M Dedica è una macchina per espresso manuale ideale per gli amanti del caffè e del cappuccino. È realizzata interamente in metallo lucido con finiture in acciaio. Numero 2. De Longhi. Questa macchina per caffè espresso De Longhi è perfetta per chi vuole combinare la tradizione italiana del caffè espresso con la facilità d'uso. La caldaia in acciaio inox è di lunga durata e la pressione di 15 bar garantisce bevande ricche e cremose. La macchina è facile da usare, con una sola manopola che permette di accedere a tutte le funzioni, e regola anche il vapore e prepara una schiuma ricca e cremosa. Inoltre, dopo nove minuti di inutilizzo si spegne automaticamente, risparmiando energia. Il vassoio di raccolta è lavabile in lavastoviglie per una facile pulizia e il portafiltro due in, uno accetta sia cialde che caffè macinato. La macchina per espresso De Longhi è un'ottima scelta per chi vuole gustare un espresso ricco e cremoso senza dover utilizzare macchinari complicati. Fine. Il numero 1 della nostra lista. Gaggiari 8 433 barra 11. La macchina per caffè espresso Gaggiari 8 433 barra 11 Viva Style è una classica macchina per caffè espresso che prepara una o due tazze di caffè macinato alla volta. Ha un funzionamento manuale e un design ergonomico e compatto. Il serbatoio dell'acqua e il vassoio di raccolta rimovibili consentono di riempire facilmente la macchina con l'acqua e di svuotare quella in eccesso dal vassoio di raccolta. Questo prodotto è dotato anche della classica lancia a vapore pannarello che consente di creare una deliziosa schiuma di latte per i cappuccini o acqua calda per tè e tisane. La Gaggia R8 433 barra 11 Viva Style è una macchina da caffè classica che prepara uno o due caffè alla volta. Sempre troverai tutti i link di questi prodotti nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato questo video. Se l'hai trovato utile, allora metti i mi piace e condividilo. Inoltre non dimenticarti di iscriverti al nostro canale per vedere altri fantastici video come questo.